Scusi buon uomo? Mi sa dire l'ora per favore? E 5.35 Ma è sicuro? E 36 mo Grazie Prego Ha mangiato il ciuchino eh? E no? Senta, mi sa dire che ora sono adesso? A una orta Le 7 e un quarto E u, ma sono le 7 e un quarto spaccare, incredibile Ma lei come fa a leggere l'ora nelle palle del ciuchino, scusi No, io le arzo, sotto c'è il campanile, vedi? Siete e un quarto